La lava del vulcano in eruzione da giorni alla Palma, isola delle Canarie, ha raggiunto l'oceano a Playa Nueva, un fenomeno temuto da giorni dagli esperti come potenzialmente pericoloso. Il vulcano Cumbre Vieja ha iniziato la sua attività dieci giorni fa. Le immagini trasmesse dalla televisione regionale hanno mostrato la lava incandescente che entra in acqua in mezzo a una grande quantità di fumo. L'incontro tra la roccia fusa a più di 1000 gradi Celsius e l'acqua intorno ai 20-25 gradi, secondo gli scienziati, può determinare la produzione di gas tossici e particelle nocive. Per questo motivo il governo regionale dell'arcipelago ha decretato un raggio di esclusione di due miglia nautiche intorno alla zona.